E chi che va da querida? Che amore! Che bellina! Peccato che non si vedrà bene, però non importa. Wow! Che figata! Vabbè, bellissima! Come rilassarsi al massimo aspettando la loro categoria. Da notare che coprono pure la targa. Come rilassarsi al massimo aspettando la loro categoria. Come rilassarsi al massimo aspettando la loro categoria. Come rilassarsi al massimo aspettando la nonchismos eso. Grazie a tutti! Come rilassarsi al massimo aspettando la loro categoria. Grazie a tutti.